E' partito a pieno ritmo all'ippodromo di Agnano il villaggio natalizio, la fantasia del Natale, Babbo Natale di Usel. Babbo Natale di suoi elfi conducono adulti e bambini tra le bancarelle natalizie e tanti spettacoli. Bambini ed adulti si lasciano trascinare dai colori delle bancarelle, dalle specialità gastronomiche, dall'intrattenimento con animazione, spettacoli e tanta musica. Domenico il gerico programma è stato impreziosito dall'attività dello storico impianto sportivo che ha offerto le spettacolari corse di galoppo. Il tutto abbinato ai colori del villaggio di Babbo Natale è un'offerta unica per tutta la famiglia. Il cuore dell'ippodromo di Agnano riprende quindi a pulsare a pieno ritmo con l'iniziativa che proseguirà fino al 15 dicembre. Uno dei templi dell'Ippica Mondiale torna alla sua antica vocazione essere un punto di incontro per la città fruibile da tutta la famiglia per trascorrere una giornata all'insegna dello sport con i migliori cavalli in pista, del relax e del divertimento grazie ai tanti servizi ed attività presenti nelle aree tribune pubblico. Diciamo che questo evento è stato studiato proprio per portare un'animazione per bambini in questo clima natalizio dove ci sono appunto dei mercatini artigianali dove tutti i visitatori a titolo gratuito potranno visitare la nostra manifestazione e in più abbiamo degli spettacoli continuativi nel weekend dalle 10 del mattino alle 10 di sera con animatori, con elfi e con la possibilità di potersi fare delle foto con Babbo Natale. L'evento è stato studiato proprio per dare la possibilità a tutti quanti di poter interagire in questo magnifico scenario dell'ippodromo e poter vivere l'atmosfera del Natale.